Tra l'atmosfera natalizia che si respira a Fano, una giornata più di alta del calendario si carica del profondo spirito del Natale, ovvero stare dalla parte dei meno fortunati, dei più deboli e vivere il senso cristiano e caritatevole di questo periodo dell'anno che non è fatto solo di panettoni, torroni, pranzi e bacanali, ma anche di solidarietà. Questa giornata particolare è da diversi anni a questa parte il mercatino dei bambini di Piazza Miani. Un'occasione imperdibile per entrare appieno nello spirito del Natale, acquistando gli oggetti che i bambini delle scuole primarie di Fano hanno eseguito nei laboratori allestiti dall'ufficio scolastico e il cui ricavato ogni anno è destinato a una onlus e ai suoi progetti. Con un progetto che vede coinvolte 12 classi delle scuole primarie della nostra città, quindi oltre 300 bambini, più gli insegnanti e le famiglie, che in questi tre mesi hanno lavorato con dei laboratori di manipolazione della ceramica e anche con un progetto musicale guidati da Stefania Carboni e il maestro Giorgio Caselli per realizzare il 14 di dicembre, sabato prossimo, a partire dalle ore 9 in Piazza Miani, un mercatino natalizio enorme, ci aspettiamo un migliaio di persone, i cui ricavati saranno destinati appunto a un progetto di solidarietà con altri bambini, in questo caso di una scuola primaria dello Zambia. Questo è un progetto che anno dopo anno stiamo consolidando, ogni anno aprendo una finestra per i bambini di Fano su una parte diversa dal mondo, cercando di unire appunto al progetto educativo di formazione, anche dal punto di vista laboratoriale, anche un progetto diciamo di conoscenza e di solidarietà. È duplice l'operazione che si compie acquistando questi piccoli oggetti, oltre ad aiutare a distanza chi vive condizioni di particolare difficoltà, mettiamo sotto l'albero un oggetto pensato e creato da un bambino per un altro bambino, dando vita così a un forte impulso formativo che rimarrà per sempre nel cuore dei nostri piccoli scolari. In caso di maltempo il mercatino si terrà sempre di sabato, ma al sabato successivo è sempre in Piazza Amiani.